Aveva appena iniziato il proprio turno di lavoro Giacomo Cesaretti, fanese di 26 anni, quando, per causa in fase di accertamento, è morto schiacciato da un macchinario di lavoro. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 7, nella zona industriale fanese di Via Papiria, all'interno dello stabilimento della Polver, azienda dedita la verniciatura di articoli metallici per conto terzi. Un'azienda che conta una trentina di dipendenti. Giacomo era uno di questi. È rimasto fatalmente schiacciato da un carrello elevatore. Inutile l'immediato allarme dei colleghi, vano l'intervento dell'ambulanza del 118. Per il giovane fanese non c'era più nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia che stanno ricostruendo la dinamica che ha portato a questa drammatica morte bianca. Reazione dura dei sindacati marchigiani che oggi all'unisono hanno giudicato inaccettabile che ancora nel 2023 una persona esca al mattino per recarsi al lavoro e non faccia ritorno a casa. Si invocano misure drastiche sul fronte sicurezza dopo che nel 2022, appena concluso, le morti sul lavoro sono aumentate del 21% rispetto all'anno precedente.